La presentazione delle ultime imprese ammesse al progetto Elite è stata affollatissima. L'obiettivo di Borsa Italiana è accompagnare il mondo imprenditoriale in un percorso di crescita e trasformazione culturale che possa facilitare l'apertura ai mercati finanziari. L'ultimo gruppo ammesso a Elite comprende 31 società, con una marcata differenziazione settoriale e geografica. Da oggi, insieme alle piccole e medie imprese, ci sono anche realtà più grandi, partecipate dal Fondo Strategico Italiano. Durante l'evento sono state premiate le 16 società che hanno terminato il percorso di formazione, spesso con operazioni di finanza straordinaria. Tra loro, anche chi è arrivato alla quotazione. Il percorso Elite è stato, a mio avviso, molto molto bello, sia per i contenuti che per la modalità. I contenuti, mi riferisco in particolare ai contenuti del percorso formativo. Quindi studiati bene, gestiti bene e la cosa che mi è piaciuta è quella di essere, tra virgolette, obbligato a ritornare sui banchi. Contemporaneamente, a Londra, 16 società hanno aderito a Elite UK. Al momento, tra Italia e Gran Bretagna, Elite conta più di 200 imprese.